Degu un programma che non è un programma è un cloud dove ci sono 100 giga di smazzo però se poi tu che guardi un video sponsorizzato prendi i video ti danno un giga di in più quindi teoricamente ogni giga di guardi ogni volta che ti guardo un video e te lo mandi un giga come ho fatto adesso io, vedi? Adesso mi devo ritrovare e ho fatto messi un giga in più un giga di spazio in più, tu non lo vuoi per l'altro, ti sei tornando a mano e tu lo rifai te ne guardi di nuovo un'altra video, guarda un'altra giga, lo puoi fare diversamente al giorno non lo puoi fare, non è che ti puoi mettere in continuazione, puoi vedere 2-3 video alla volta insomma al giorno oppure ogni mezza giornata, lo so di sicuro